ti prendo dai che ti prendo scappa attento ti prendo scappa scappa che ti prendo eh ho capito vai 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 corri 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 sei già qua e scappa corri scappa che ti prendo scappa vai corre Leo corre vieni vieni beh ti sei fermato dai andiamo lascia lascia cosa c'è oh dov'è l'anna vado un po' a cercare poi torna però vai 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 a cercare sì ma devi cercare la tua sei te il cane no io no io ah è là e dillo no bravo bravissimo qua vieni lascia perdere lascia perdere vieni vieni qua lascia perdere ah e questo casinista che sgombata che hai fatto dai vieni sei un casinista occhio lì eh non fare cavolate non fare cavolate oh abbiamo di nuovo perso l'anna dov'è andiamo un po' a cercarla va andiamo torniamo indietro vado a cercare poi vediamo dov'è dai vai 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 che arrivo vai ah è lì è lì bravo che l'hai vista bravo non ti avvicinare lì o no non ti avvicinare non ti avvicinare Grey non ti avvicinare che attadi ma 중에 rimbio nonne non 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 lì dove eravamo prima grazie a tutti